Stiamo andando al cinema Eden per la proiezione di lei e l'altra Cristiana è sempre molto positiva, devo dire veramente che è una bella qualità Speriamo bene Ennesima, abbiamo anche i nostri amici dietro Cristiana! Eccoci, eccoci Non è stato un'altra piacere a tutti noi Amici Abbiamo Claudia e ora dove stanno andando giù Come è Cristiana? E poi sarà il backstage del Lungo Nel backstage del Lungo vediamo il festival del Cotto Vinciamo, vinciamo, vinciamo Il va stasera per faccio male Su stampa no, non è il mio vestiere Alessi, saranno gli Oscar Ha saputo concentrare in un corto tutte le componenti tematiche della commedia Con l'utilizzo di stili diversi di regia Affronta tematiche attuali con amore ed ironia Mostra una buona direzione degli attori e un efficace ritmo di ripresa Il premio è per lei e l'altra Massimo Nardari Volevamo dire che in sala Che è Claudia Zanella L'attrice principale Che è il corpo Io ti venirei di salire Perché te lo meriti questo applauso? Non ci provare Vieni su Sono molto contento perché abbiamo presentato qui Ringrazio Maddalena Maineri Insomma abbiamo presentato qui questo cortometraggio Che fa parte di una trilogia Lui e l'altro, lei e l'altra, noi e gli altri Ed è, non è vero Abbiamo già fatto lui e l'altro E quindi l'anteprima è qui Ed è un sunto di un film È il promo di un film che vogliamo sviluppare Poi abbiamo due grandi attrici Claudia e Michal Andreozzi Claudia è qui Vuoi dire qualcosa? No, sono grazie Com'è andata allora la proiezione? Almeno qua abbiamo lì Premio, miglior regia, Max Norddani Siete grandi, ragazzi Questa posso dire che siamo molto contenti Siamo in tour Domani c'è la proiezione di Leila Altra, tanto lo chiede Che bella che sta cosa che continua Però è bella È finita È una vita vissuta Che bella Grazie.